buongiorno a tutti sono davide pelizzari da dieci anni sono responsabile di recupero crediti sinistri legal operations della direzione legale compliance di a2a d'intesa con la general counsel lucia monti e con la preziosa collaborazione della direzione digital and innovation che si propone la mission di governare il processo di digital transformation del gruppo a2a abbiamo deciso di dotarci di un gestionale dei contenziosi e dei pareri che quotidianamente la direzione legale è chiamata a gestire e da rilasciare a conclusione di un percorso competitivo abbiamo optato per il sistema gestionale enterprise di team system è stato il primo passo di un processo di trasformazione digitale della direzione legale caratterizzata da una roadmap e da step progressivi di avanzamento di progetto che pone come sfida principale l'adoption sempre più estesa e convinta dei diversi tool resi disponibili da enterprise con sensibili benefici in termini di efficienza e di produttività l'estensione dell'uso consentirà anche ai giuristi di impresa così come sta già accadendo per i loro colleghi di importanti studi legali di completare la loro evoluzione in manager sempre più protagonisti del business aziendale sempre più veri business partner in un contesto articolato come quello di a2a la soluzione enterprise di team system garantisce la semplificazione e l'automazione dei flussi di lavoro e di comunicazione con i collaboratori interni ed esterni che si tradurrà via via in un significativo risparmio di tempi e in un progressivo abbattimento di costi questa soluzione consente inoltre di fascicolare e monitorare l'andamento di centinaia di contenziosi di varia natura garantendo un aggiornamento costante delle posizioni anche attraverso sincronizzazioni automatiche con outlook individuali o direttamente tramite police web dal sito del ministero della giustizia e anche punto di accesso al processo civile telematico ed è già stato integrato con la nostra piattaforma di beauty contest molto importante in una realtà complessa come quella di a2a è poi la possibilità di personalizzare reports e analytics a beneficio di differenti stakeholder interni fondamentale poi è la possibilità di configurare flussi di attività contribuendo a standardizzare e velocizzare il lavoro e riducendo di conseguenza i possibili errori operativi dovuti ad un'eccessiva manualità il sistema inoltre è configurabile in termini di layout delle schermate e di tipologia dei dati gestibili a livello di pratica e anagrafica senza la necessità di sviluppi evolutivi il che garantisce un risparmio in termini di costi e un'adattabilità del sistema rispetto sia alle evoluzioni del contesto che alle esigenze di a2a il personale di team system ha garantito un presidio cost continuo con un project manager dedicato per tutte le fasi di avanzamento del progetto ancora in corso di esecuzione anche gli specialist applicati al progetto hanno dimostrato estrema disponibilità e flessibilità nella secondare le esigenze di customizzazione avanzate non da ultimo hanno saputo interagire efficacemente con legali soggetti tradizionalmente poco avvezzi all'ingegnerizzazione dei processi grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione